Un saluto all'Istituto di Cultura di Los Angeles, a tutti gli amici italiani e californiani che stanno guardando questo mio messaggio, questo mio tributo all'arte che non si ferma. Non stiamo vivendo dei giorni belli, ma l'arte è creatività, l'arte è interpretazione, non si può fare l'artista senza interpretare quello che ci sta attorno. Ecco perché oggi vi parlo di quest'opera. In realtà in questi giorni avrei dovuto essere a Los Angeles a montare la mostra che avremmo dovuto fare tra poche settimane. Non sono Los Angeles perché sono in resilienza come voi, ma non è un carcere, è un altro luogo della mente, un altro modo di vivere, di riflessione, di approfondimento. L'opera di cui vi parlo oggi si chiama C-19SH, che vuol dire coronavirus 19, stay home, ed è un'interpretazione delle lettere perché un artista non può non vivere quello che ci sta attorno, non può non sentire come le cose cambiano. Ecco che allora per esempio la lettera C, che è una calamita, diventa anche un numero, C-19. La H, che è una costruzione impossibile, diventa una casa, un'architettura nuova, rinnovata. E così la S, che sono due frecce, fatta da due frecce che escono, diventano due frecce che entrano. E lo stesso la P del pesce palla diventa un piatto perché stiamo a casa a mangiare, preparare la E diventa enjoy food, ma anche la L, che all'inizio era solo una pistola, diventa la libertà, che ho scritto volutamente anche in inglese, che è freedom. Il bacio, c'è una X sopra perché è cancellato e per fortuna l'ultima cosa è l'ultima lettera, la Z, perché alla fine, come i fiumi diventano mare, anche le storie devono finire. Dopo il buio c'è obbligatoriamente la luce, quindi dice on the end. Vi abbraccio e grazie per condividere questo lavoro e vi voglio un bene infinito. Lorenzo Marini, Milano.